Dopo avervi portato 2-3 video con uno sfondo decisamente poco consono alla bellezza artistica del mio canale, aperta parentesi, ironia, chiusa parentesi, vi riporto finalmente nella mia camera, con il calendario in bella vista che mostra Carles Perez e Stefano El Sharawi, il crocifisso che tra poco si metterà le mani così tante volte mi ha sentito imprecare per i colori giallorossi, lo stemma lì a fianco, eccetera eccetera. Non vi fa una planimetria, neanche se si dice questo termine, della mia camera perché non è questo l'argomento di giornata. A dire la verità oggi è una giornata abbastanza noiosa. Ho cercato un pochino di notizie in giro per il web ma non c'è nulla di veramente interessante. Questa sera si giocherà Inghilterra Italia di National League, una partita importante giusto perché comunque sfidino nazionale di livello dopo la finale dello scorso anno dell'europeo, che però ha in sé un'importanza veramente misera. Per carità io con la conferenza ho fatto un discorso millenario dicendo che bisogna onorare ogni competizione che si disputa, però la National League veramente secondo me è a un livello anche inferiore perché si gioca a campionato finito, quando ormai le squadre stanno pensando ai giocatori, stanno pensando alla preparazione estiva con la squadra di club ed effettivamente è solo un modo per guadagnare qualche milione in più e affaticare ancora di più giocatori che con la preparazione estiva e le successive amichevoli saranno spompate ancora prima di iniziare il campionato. Ma detto questo, allora, volevo parlarvi di una notizia che ho letto ieri al quale non ho dato particolare importanza perché mi sembrava così scontato il riscontro negativo rispetto magari alla voce che parlava di un interessamento del Paris Saint Germain per Murigno che non ho voluto dedicarci neanche un secondo, però ho visto che comunque qualcuno in privato mi ha inoltrato la notizia e alcuni mi hanno scritto di dirne cosa ne penso. Quindi eccoci qua in questo video in cui analizzeremo l'offerta o presunta tale del Newcastle per Lorenzo Pellegrini. Sembra infatti che il club inglese che l'anno scorso comunque è stato preso da gli sceicchi che hanno una disponibilità economica fuori dal normale, sembra che appunto abbiano fatto un'offerta per il nostro capitano di ben 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Inizialmente mi sono messo a ridere, mi sono messo a ridere perché comunque ho pensato a quanto avrebbero voluto i tifosi della Roma ricevere un'offerta del genere due anni fa, facciamo due anni fa. È chiaro che comunque il giocatore è cresciuto nel corso degli anni, quindi ora si merita di più una valutazione elevata come questa. Però mi viene da ridere perché agli inizi, e ne ho parlato anche quando ho affrontato il tema del numero 10, potete trovare, adesso lo metterò magari sulle schede, però basta che cercate sui miei ultimi video, dovrebbe essere uscito l'altro ieri, e ricordo che ai primi tempi Pellegrini era molto criticato dalla tifoseria, non tanto il primo anno che comunque era una discreta riserva, quanto più dal secondo in poi, quando ha cominciato a trovare più spazio e senza riuscire poi a fare belle prestazioni. Ricordo che ci furono partite veramente deprimenti, se vogliamo, come la trasferta di Bologna, anche se in quella partita giocarono tutti quanti male, e ricordo appunto che i tifosi erano molto arrabbiati con lui. Poi ci fu, diciamo, l'exploat improvviso con il gol di Tacco nel derby, che è durato per qualche giornata, e poi di nuovo sono ritornate le critiche, perché purtroppo Roma, come Napoli o come questo genere di piazze, si attacca molto al fatto che un giocatore è romano e romanista, o nel caso di Napoli, napoletano e tifoso del Napoli. E al tempo stesso sono capaci di amarti incondizionatamente, ma anche di odiarti per ogni tuo minimo errore, perché il livello di esigenza nei confronti di questi giocatori aumenta a dismisura, soprattutto se poi vengono designati come capitani dopo i ben più importanti Totti e De Rossi. Non sto dicendo che è colpa di Totti e De Rossi, ci mancherebbe altro, però molte persone, e lo dico anche rispondendo a quelli che mi hanno commentato negativamente sul video del numero 10, devono capire che non è obbligatorio fare le stesse cose che ha fatto un giocatore in passato per meritare il suo numero, perché molti mi hanno detto che non merita la 10 perché non ha fatto 25 stagioni, non ha fatto 307 gol, non ha fatto questo e quell'altro. Se ragioniamo su quest'ottica, il 10 allora a questo punto è meglio che si ritira, perché è inutile. Allora, che senso ha? Se uno deve raggiungere i risultati che ha fatto Totti, va a finire che magari uno ci riesce, però gli dai la 10 l'ultimo anno, l'ultima stagione e finisce là. Io credo che tutti abbiano il diritto di sognare questo numero, e al tempo stesso non si può massacrare un giocatore se non è al livello dei suoi predecessori. Bisogna giudicarlo per quello che è, e sebbene io lo abbia criticato dopo alcune prestazioni negative, l'ho sempre considerato un giocatore buono che bisognava valutare in base alle prestazioni e non al fatto che era romano e romanista, sia in termine positivo che in termine negativo. Detto questo, allora, ritorniamo all'argomento di giornata. Era scontato che dopo la stagione passata almeno una squadra si sarebbe interessata al giocatore, ed è ancora più scontato che il Newcastle farà un tentativo per tutti i giocatori più importanti del mondo, se vogliamo, perché comunque l'anno scorso è arrivata comunque questa nuova proprietà ricca, tra le più ricche del mondo, però la squadra non versava in una situazione positiva di campionato e di squadra. Credo che col passare del tempo ci saranno tanti giocatori che magari preferiranno quel club inglese ad altre squadre che potranno offrire meno milioni. Ancora non c'è un colpo decisivo sotto questo punto di vista, ma sicuramente arriveranno col passare del tempo. Quindi non sono stupito del fatto che una squadra con una disponibilità economica spaventosa si sia interessata al giocatore. Al tempo stesso non sono rimasto sorpreso della risposta negativa di club e giocatore. Anzi, del giocatore sì, cioè non sono rimasto sorpreso. Per quanto riguarda la società ho apprezzato questo gesto, perché diciamo che l'input della Roma di pallotta era sempre quello di valutare le offerte e al 90% di accettare, anche per giocatori importanti. Qua però secondo me c'è un discorso diverso dal punto di vista tecnico, perché se Pellegrini fosse stato un altro giocatore e avessero offerto 60 milioni, considerando lo stesso livello tecnico, facciamo finta che Pellegrini è un giocatore che non di Roma, non romano, non capitano, un giocatore forte in generale, e fossero arrivati ad offrire 60 milioni, sono convinto che ci sarebbero state molte più persone, forse anche la società compresa, che avrebbero accettato o comunque si sarebbero sedute a tavolino a trattare. Perché è una cifra importante, è inutile negarlo, cioè per la Roma, che non credo spenderà 200 milioni per il mercato, anche con la vittoria della Conference, sarebbe un innesto importante, ci prendi il sostituto, ci prendi un difensore, ci prendi un esterno, non ci fai tutto il mercato, però 60 milioni non sono pochi, o perlomeno puoi trattare per chiederne qualcuno di più. La differenza però sta proprio nel nome, e in quello che il giocatore ha rappresentato per la Roma fino a questo momento. Pellegrini è riuscito con la vittoria della Conference, e dopo una stagione più che positiva, ad entrare finalmente in sintonia con il tifo giallo-rosso. Dopo tanti anni di difficoltà in cui si è fatto un sedere grosso così, dico sedere, non dico l'altra parola, perché ultimamente mi hanno tolto la monetizzazione da 3-4 video, magari solo per una parola fuori posto, pensate quanto sono fiscali rispetto magari a qualche anno fa, che potevi dire quello che ti pare, non dicevano niente, ma detto questo, si è fatto il mazzo tanto, diciamo, per guadagnarsi la fiducia dei tifosi, andando contro a polemiche di ogni tipo, tifosi che lo hanno massacrato. Io ricordo, anche quest'anno, in Roma Vitesse ci fu un massacro totale da parte dei tifosi, perché fece una brutta prestazione, per carità, ma venne massacrato come il male assoluto, è considerato il male della Roma in quel momento. Ogni errore, ogni piccola scelta, buuuu, che facciamo? Che è successo? Ha faticato, si è impegnato, gol nel derby, gol con l'Eister, vari assist, e finale vinta con il Feyenoord. Questo è quello che ha portato Pellegrini ad unire ancora di più il suo rapporto con i tifosi. E in questo momento sarebbe la cosa più sbagliata di tutte, pensare di mandarlo via per un discorso economico. Quindi, sono sicuro che Pellegrini chiaramente voglia restare qui, cioè la sua scelta è quella di restare qui a vita, in questo momento. Però mi piace che questa scelta sia stata sposata in pieno anche dalla società. Poi adesso, il mercato è strano, adesso non voglio dar per certo nulla, per l'amor di Dio, ma sono convinto che comunque Pellegrini resterà alla Roma per tanto, tanto tempo. Non so se per tutta la carriera, ma se dovesse migliorare ancora di più come è successo quest'anno, ne sarei contentissimo. Credo che la svolta nella sua carriera sia stata la frase vorrei tre Pellegrini, cioè se avessi tre Pellegrini giocherebbero tutte e tre, detta da un certo Giuseppe Murigno. Quella frase credo che l'abbia sbloccato mentalmente ed è riuscito dall'in poi a fare tante cose positive. Con qualche errore, sia chiaro, per carità, il rigore con la Juve, qualche prestazione sotto tono, ma c'è stato proprio un innalzamento di livello, come se fosse passato dall'essere normale a Super Saiyan, se vogliamo. Il Super Saiyan non poteva battere chiunque, però è un innesto importante, mettendola un po' dal punto di vista dei manga, degli anime, eccetera, eccetera. Quindi, cosa voglio dire in conclusione di questo video? Sono contento che la Roma abbia rifiutato questa offerta per questo giocatore. A parte lui, Abram e pochi altri, avrei comunque considerato l'idea di trattare per questa cifra. Cioè, tutti gli altri della Rosa e della Roma, fatte eccezione per lui, Ebram ed altri, beh, Smolling comunque sono 60 milioni, lui ed Ebram, mettiamoci per adesso solo loro due, sono gli unici per il quale non tratterei neanche per questa cifra. Per quanto li considero forti e importanti dal punto di vista tecnico, magari più per Ebram, o comunque carismatico, di leader di entrambi. Sono contento appunto che la Roma abbia rifiutato, spero che non ci sia un attacco ancora più pesante nei suoi confronti a livello economico, perché comunque deve essere lasciato in pace, però sono contento che per una volta ci sia un discorso di appartenenza e un pensiero che si possa rinunciare anche a tanti soldi pur di mantenere un rapporto solido con la tifoseria e permettere a un giocatore di poter diventare importante nel corso degli anni per i colori giallorossi. In questo caso parliamo appunto del capitano e questo è un motivo ancora più importante per volerlo vedere con la nostra maglia titolare lì davanti al centrocampo per tanto altro tempo ancora. Un saluto a tutti dal vostro gladiatore giallorosso, lasciate un mi piace se volete supportarmi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Se poi volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ci vediamo presto per un altro video, se avete degli argomenti da propormi comunque scrivetemelo nei commenti, sarò ben felice di prenderli in considerazione. Un saluto a tutti, buon sabato e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!